Benvenuti a Creazione nel ventunesimo secolo. Sono il vostro conduttore, Carl Bo, fondatore e direttore del Creation Evidence Museum di Glen Rose nel Texas. Ci sono talmente aree in cui bisogna mettere le cose in chiaro che ho pensato fosse necessario fare un'altra puntata, perché ci sono davvero tante informazioni che dovete conoscere. Beh, c'è una teoria che si è diffusa fin dall'antichità, la teoria del naturalismo, la quale sostiene che gli esseri viventi siano derivati dal limo e dall'acqua, progredendo nel tempo, partendo dall'era paleozoica, il passato lontano e oscuro, passando per l'era mesozoica dei Grettili, fino ad arrivare all'era cenozoica. Quindi era paleozoica, era mesozoica, era cenozoica dei mammiferi. E questa è una teoria molto antica e si presume che ci siano tantissime gradazioni, tantissimi strati. Gli strati effettivamente ci sono, ma la cosa incredibile è che tutti gli strati che abbiamo scoperto contengono dei fossili polistrato. Ora, mettiamo le cose in chiaro. La teoria dell'evoluzione insegna che all'incirca dai 14 ai 20 miliardi di anni fa, perché proprio dai 14 ai 20, perché non 15,6 miliardi di anni fa? Perché ogni volta che la comunità evoluzionistica, che si tratti di microbiologia, dei sistemi biologici o degli archivi geologici, dei corpi stellari in astronomia e astrofisica, ogni volta che essi si focalizzano su qualcosa e pensano di avere delle prove di una particolare era, e questo è il frutto dell'interpretazione di molte variabili, esiste sempre una variabile contraddittoria che le annulla. Quindi essi credono in questa teoria, perché se non si ammette la teoria secolare naturalistica per spiegare le origini della vita, l'unica possibilità che rimane è un intervento soprannaturale. Questo è proprio quello che realmente dimostrano le prove. Non solo gli esseri viventi sono estremamente complessi, ma anche tutti gli esseri che scopriamo nei reperti fossili sono estremamente complessi. Recentemente è stato scoperto che esiste una medusa che possiede un sensore di ricezione che la rende capace di migrare piuttosto che lasciarsi trascinare dalla corrente, è in grado di migrare volontariamente evitando gli ostacoli. E osservate il trilobite, si presuppone sia uno dei primissimi esseri viventi, ha degli occhi complessi. Quindi vediamo di mettere le cose in chiaro. La complessità non si è sviluppata nel tempo, la complessità esisteva dal principio. Diamo un'occhiata alla parte più bassa. Si presuppone che 3 miliardi e mezzo di anni fa i batteri si siano evoluti. Ma mettiamo le cose in chiaro, i batteri sono incredibilmente complessi e devono per forza avere degli organismi che li ospitano. Cercate di afferrare il concetto, mettiamo le cose in chiaro. I batteri, per riuscire a sopravvivere, hanno bisogno di altri componenti biologici da biodegradare. Non possono esistere in un ambiente fatto semplicemente di roccia. Gli altri esseri viventi che hanno una materia che una volta era viva e che ora si sta biodegradando e con gli escrementi della materia vivente che deve essere biodegradata, questi batteri interagiscono con tutti gli altri complessi esseri viventi e i batteri stessi sono incredibilmente complessi. Molti batteri hanno un così chiamato piccolo flagello che ha una struttura simile ai capelli. Ha una frusta, una struttura lunga che gli permette effettivamente di spingersi attraverso l'ambiente in cui stanno operando, che sia acquoso, che sia acqua oppure un fluido o semifluido. Questi batteri sono stati progettati per spingersi attraverso quella sostanza e quella piccola struttura a forma di frusta possiede un motore, un motore fotonico che funziona effettivamente con la variazione di energia tra i componenti intercellulari. Si tratta in realtà di un motore elettrico, elettronico e atomico-fotonico. Ha un rotore, uno statore, un giunto universale, un gancio. Sono presenti tutti i componenti di un motore elettrico ed esso può rallentare e andare molto molto piano oppure può accelerare ruotando a una velocità effettiva di 100.000 giri al minuto. Ai bambini piacerebbe davvero tanto avere una capacità del genere. Ebbene, questa creatura possedeva tale capacità fin dal principio, quindi mettiamo le cose in chiaro. La base della colonna geologica e tutta questa colonna geologica non si trova da nessuna parte sulla faccia della Terra. Questi fossili li trovate in depositi sedimentari. Questi fossili li potrete trovare nei depositi sedimentari, ma molto spesso troverete questi fossili invertiti. Molto spesso troverete questi fossili mischiati con questi altri in disordine. Quindi questa colonna geologica progressiva non esiste da nessuna parte sulla faccia della Terra. Mettiamo le cose in chiaro. E degli esseri viventi complessi come i batteri, con gli occhi complessi del trilobite, si trovano alla base della colonna geologica insieme all'evidente simultanea presenza dell'uomo. Mettiamo le cose in chiaro. Ma quando possiamo annunciare che qui abbiamo due trilobiti schiacciati, uno sotto il tacco e uno sotto la punta dell'impronta di un sandalo fatta da un essere umano, con alcune delle cuciture intorno all'apertura. Noi possediamo realmente l'originale di questa impronta. È stata denominata l'impronta di Meister. Ha un valore assolutamente inestimabile. La teniamo conservata in un posto sicuro e la metteremo finalmente in mostra quando il museo sarà completo, quando avremo il museo definitivo con tutti i sistemi di sicurezza. Mettiamo le cose in chiaro. L'uomo è stato presente in tutto questo e questi sistemi di stratificazione sedimentaria si sono debositati durante il diluvio universale. e ora ve lo dimostrerò da un punto di vista accademico. Ho portato in studio dei grafici. Qui abbiamo il concetto del Big Bang, il concetto evoluzionistico, un Big Bang e i detriti che da quel Big Bang si sono concentrati in alcune zone dell'universo, in particolare nel braccio di Orione, nella galassia della Via Latea, dando vita al nostro sistema solare, incluso il nostro pianeta Terra. E da qui i detriti di rifiuti hanno cominciato a evolversi gli esseri viventi, secondo questa teoria, diventando progressivamente più complessi, passando per l'era dei rettili, introducendo l'era dei mammiferi, per arrivare infine all'uomo, l'esemplare supremo dotato di cervello, il supremo esemplare del processo evolutivo. Ma il cervello dell'uomo, mettiamo le cose in chiaro, il cervello dell'uomo non può essere il prodotto di un processo evolutivo. Il cervello umano, la letteratura tecnica lo riconosce, è più complesso nella sua struttura di tutto il resto dell'universo fisico messo insieme. Tutte le restanti 225 miliardi di galassie, ognuna comprendente oltre mezzo miliardo di stelle, un solo cervello è più complesso, un singolo cervello umano è più complicato di tutta la mole del resto dell'universo, del resto del cosmo fisico. Ora, ascoltate, vediamo di mettere le cose in chiaro. Non abbiamo nessuna prova che supporti il Big Bang. Infatti le prove contraddicono la possibilità di un Big Bang. La possibilità di disaccoppiamento di molti elementi non può verificarsi naturalmente. Questi dovevano essere già presenti all'origine e il Big Bang semplicemente non può funzionare per molte, molte ragioni e non possiamo avere un processo evolutivo. Infatti, quello che abbiamo è un intreccio denominato fossili bolistrato. Tutti questi strati sedimentari sono intrecciati con lo strato successivo. Questo fossile particolare, che viene mostrato qui, si trova vicino Cookville, nel Tennessee. La base di quest'albero, molto simile a una palma, la base ha le radici che sono state tranciate e la base si trova nel carbone ed è carbone. La parte contigua del tronco si trova nell'arenaria ed è arenaria. La parte contigua si trova in un piccolo strato di carbone ed è carbone. Arenaria, carbone, calcare, carbone, arenaria. Questo percorre un periodo di oltre 5 milioni di anni del presupposto tempo evoluzionistico. Ora mettiamo le cose in chiaro. Non è assolutamente possibile che un albero possa sussistere per 5 milioni di anni. Mettiamo le cose in chiaro. Tuttavia, quando un albero viene travolto dall'acqua, i rami vengono tranciati, come in questo caso qui. Le radici vengono tranciate. Quando un albero viene travolto dall'acqua, molto spesso, dato che la sezione delle radici è bulbosa, realmente finisce col venire su e sorge dall'acqua come se fosse in una posizione verticale. E quando si deposita poi negli strati sedimentari, rimane in posizione verticale come se stesse crescendo. Mettiamo le cose in chiaro. Tutto, tutto questo si è depositato con il diluvio universale. Anche il carbone. Noi al Creation Evidence Museum abbiamo prodotto il carbone in due ore. Se si prendono dei materiali organici, le argille, l'acqua, il calore e la pressione, è possibile sviluppare del carbone. E maggiore è l'accumulo verso la cima di questo, con tutti questi strati, maggiore è la pressione e maggiore è il calore. C'è stato un diluvio universale? Mettiamo le cose in chiaro. Qui c'è la foto di un mio carissimo amico, il professore M.E. Clark dell'Università dell'Illinois, un dinamicista dei fluidi. È uno studioso di fama mondiale. E qui sta indicando un fossile polistrato. Qualche minuto fa vi ho parlato dei fossili polistrato che si suppone ricoprano un tempo evolutivo di 5 milioni di anni. Ebbene, abbiamo scoperto questo fossile a Glen Rose quando abbiamo rimosso questo sovraccarico qui e si è spaccato esattamente nel posto giusto. Abbiamo scavato in questo materiale e abbiamo trovato questo lombrico che corre lateralmente in questo calcare e viene su attraverso il calcare per 6 centimetri in un contesto di vita in cui è stato sepolto vivo. Ora, perché questo è importante? Secondo l'interpretazione geologica standard, a questo calcare ci sono voluti dai 26.000 ai 2 milioni di anni per assimilare 2,5 centimetri di sedimento. Ora, mettiamo le cose in chiaro. Avete capito? Da qui a qui sono da 26.000 a 2 milioni di anni. Da qua a qua. Da 26.000 a 2 milioni. Da 26.000 a 2 milioni. Aspettate un attimo. Questo lombrico, se la spiegazione evoluzionistica è esatta, questo lombrico è dovuto sussistere perché qui c'è un altro lombrico. Abbiamo un lombrico che corre lateralmente nel materiale per 4 pollici. Questo lombrico è dovuto rimanere qui 26.000 per 4, sono quasi 100.000 anni. Oppure 2 milioni per 4, che sono 8 milioni di anni. Noi lo definiamo il forte lombrico, non solo perché doveva essere molto forte per riuscire a sussistere fino a 8 milioni di anni mentre il sedimento si formava intorno a esso e il numero inferiore, poco meno di 100.000 anni, se la deposizione evolutiva di questo materiale è esatta. Ma mettiamo le cose in chiaro. In quella zona c'erano dei piccoli esserini come questo chiamati falacenoides che andavano qua e là e questo verme non è rimasto fermo. Questo materiale è arrivato così velocemente e si è pietrificato così velocemente che esso ha cercato di fuoriuscire da questo materiale fino in superficie ed è rimasto catturato in un diluvio universale. Un diluvio universale? Sì, lasciate che vi spieghi. Questo stesso strato sul quale stiamo lavorando è stato identificato per la prima volta vicino a Austin, nel Texas, perciò viene chiamato il gesso di Austin. Non è assolutamente gesso perché è estremamente denso, estremamente pesante, estremamente duro ed è stato identificato da un punto di vista geologico per la prima volta vicino a Austin, nel Texas. È molto bianco, perciò è stato chiamato il gesso di Austin. Si trova a Glen Rose e noi ci stiamo lavorando. Si estende per 2.600 chilometri dal centro del Texas lungo tutta la costa orientale degli Stati Uniti. È stato trovato nelle bianche scogliere di Dover, percorre tutta l'Europa, tutta la Scandinavia, la Russia, la Cina, ritorna nel Medio Oriente, percorre tutto Israele, tutta la zona del Nord Africa. È stato ritrovato di nuovo nel Texas. Si estende verso sud, nell'America centrale e del sud. Si estende a nord, lungo tutto il tragitto fino al Canada. Percorre tutto il tratto fino alla costa occidentale. È stato trovato nel continente australiano. Voglio dire che questo è un diluvio universale e questo lombrico dimostra che tale diluvio è avvenuto molto rapidamente. Questo è del materiale che si è sedimentato. Mettiamo le cose in chiaro. Adesso vogliamo mettere le cose in chiaro su un altro argomento che è molto importante. Secondo la teoria evoluzionistica, la Terra non si trova in una posizione speciale all'interno dell'universo. La regione di tale affermazione è che l'occupare un posto particolare in qualche modo implicherebbe che sia particolare per qualcuno e quel qualcuno sarebbe Dio. Ma non si può evocare Dio in questa cosa secondo il dogma standard dell'evoluzionismo. Deve essere naturale. Bisogna lasciare Dio fuori, quindi la Terra non si trova in una posizione speciale o invece lo è e come. In una precedente puntata ho dimostrato che gli astrofisici, gli astrofisici secolari in una delle maggiori università hanno scoperto che l'universo è orientato con un asse. Questo significa che le posizioni sono speciali nell'universo. Mettiamo le cose in chiaro. Gli astrofisici e evoluzionisti vogliono presupporre che se osserviamo da una distanza abbastanza lontana fondamentalmente tutto è uguale a tutto il resto. Avete capito? Fondamentalmente che se osserviamo l'universo da un ampio spettro ogni parte è uguale a qualsiasi altra. Tutto è omogeneo e non c'è assolutamente niente che sia eccezionale. Ma la Terra invece è davvero singolare. Il nostro sistema solare è singolare. La nostra galassia della Via Lattea è singolare. È stato scoperto adesso e i testi tecnici ne danno la prova che dalla nostra galassia della Via Lattea si estendono sette bracci di galassie che formano dei cerchi intorno a noi. Ognuno ha una distanza maggiore e avente la massa maggiore nell'universo. Significa calcolare tutto quello che conosciamo dell'universo. La massa maggiore dell'universo si trova alla maggiore distanza e circonda la nostra galassia, il nostro sistema solare e la nostra Terra. Questo è un posto davvero speciale. mettiamo le cose in chiaro. Osservate. Noi ci troviamo nell'eccezionale posizione del braccio di Orione della Via Lattea. Questo è il braccio di Orione che termina qui. Se lo ripercorriamo in senso contrario vedremo che ritorna al nucleo. Questo è il braccio di Pegaso. Segue questa traiettoria qui. Si trova all'interno e all'esterno rispetto a noi. Noi siamo in una posizione davvero singolare. Questa è la vista piatta della Via Lattea e noi ci troviamo esattamente qui. Un braccio è qui e un altro braccio è qua. Se fossimo stati soltanto una rivoluzione più vicini al centro della galassia dove apparentemente si trova un buco nero se fossimo stati soltanto una rivoluzione più vicini se fossimo stati sul braccio di Pegaso saremmo stati così vicini al centro della galassia tanto che ci sarebbero state così tante radiazioni che la vita così come ora la conosciamo non sarebbe stata possibile. Se invece fossimo una sola rivoluzione più lontana da dove siamo non vedremmo nient'altro che un'enorme macchia di luce. Non avremmo nessun parallasse di riferimento dalla quale poter definire la distanza di qualsiasi oggetto. Quindi per il pieno esercizio del cervello umano mettiamo le cose in chiaro. Ci troviamo esattamente nella giusta posizione. Se fossimo stati una sola rivoluzione più vicini troppo radiazioni non avremmo potuto vivere. Una sola rivoluzione più lontani nient'altro che un'enorme macchia di luce e nessuna parallasse con la quale poter mettere a confronto gli altri oggetti nell'universo. Semplicemente non avrebbe funzionato. Dunque vediamo di mettere le cose in chiaro. Noi ci troviamo nel posto giusto al momento giusto. Ma vediamo ora di mettere le cose in chiaro in qualche altra cosa. In alcune puntate precedenti ho fatto riferimento a una spada molto bella una spada antica. Mi è stata regalata da un mio carissimo amico Radney Sullivan. Avevo messo in evidenza il fatto che sull'elmo e sulla corazza dell'armatura di questo soldato raffigurato abbiamo uno pterodattilo e non si tratta di una creatura mitologica. Questo pterodattilo è un serpente volante e Rodotone parla. Io ho condotto tre spedizioni scientifiche nelle giungle di Papua, Nuova Guinea in cerca di pterodattili viventi. Abbiamo fatto cinque avvistamenti e abbiamo ricevuto oltre una dozzina di descrizioni da parte di testimoni oculari. I pterodattili sono esistiti davvero e questa naturalmente è stata forgiata da una società che non soltanto voleva difendere la Bibbia ma voleva difenderla con la spada. Beh, la nostra difesa della Bibbia è una difesa spirituale. Lo spargimento di sangue non rientra nei moventi del cristiano. Infatti, Gesù disse a Pietro riponi la tua spada nel fodero. Ma mentre mi stavo preparando per questa puntata ho notato qualcos'altro. Sul fondo del fodero c'è un'altra armatura e alla base ci sono due Leviatani. Leviatani. In Giobbe 41 c'è la descrizione di una creatura stupefacente chiamata Leviatano che viveva nel mare e sulla terra. Aveva delle punte accuminate e taglienti e degli artigli che uscivano dai piedi e sputtava fuoco. qui abbiamo due di questi Leviatani quindi abbiamo il Leviatano abbiamo l'opterodattilo abbiamo la difesa della parola di Dio e io affermo che i documenti dimostrano che sia i Leviatani che gli pterodattili sono state delle creature vere e proprie. Ma voglio sfatare ancora un altro mito voglio mettere in chiaro ancora qualcosa. ho portato nello studio quello che gli evoluzionisti sostengono essere il vostro bis 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 nonno ritagliato migliaia di volte. Si tratta in ogni modo di un meteorite molto prezioso. Questo meteorite è il meteorite all'Ende che è caduto credo l'8 febbraio del 1969 nella penisola dello Yucatan in Messico. Molti frammenti come questo e altri più grandi dei massi dei grossi pezzi si trovavano nel meteorite e questo ha ricoperto una vasta area. Si tratta del meteorite più studiato nella storia geologica e nella storia biologica perché è carbonioso. Fondamentalmente è carbonio e non solo nero di carbonio ma ha dei minuscoli granellini che la telecamera probabilmente non riuscirà a riprendere. Dei minuscoli granellini che sono dei diamanti. Questo è carbonioso ma ha delle inclusioni di silicato di alluminio. E secondo la teoria evoluzionistica questo carbonio che è stato generato secondo questa teoria nel nucleo delle stelle lontane è stato poi espulso con una supernova nello spazio e infine è finito sul pianeta Terra. Molte di queste sono arrivate nel passato secondo la teoria evoluzionistica e sono state la base per la formazione della vita basata sul carbonio così come noi la conosciamo. Quindi secondo la teoria evoluzionistica il vostro bis 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 nonno era una roccia. Oh ritagliata migliaia di volte ma era una roccia. Ma vediamo di mettere le cose in chiaro. Di recente su scientificamerica.com è stata fatta una pubblicazione che ha mostrato che queste molecole carboniose atomi e molecole che si sono formate non sono lo stesso tipo complesso che è in grado di formare i nucleotidi le basi per il DNA l'RNA e gli esseri viventi. Gli aminoacidi che si formano sono semplicemente dei catrami e non sono in grado di generare la vita. Quindi mettiamo le cose in chiaro. Questo non è il vostro antenato. Addentriamoci un po' di più. Per sintetizzare una semplice proteina una sola proteina Sir Frederick Coil e Chandra Vikramasinghe hanno messo in chiaro che la probabilità di sintesi di una proteina singola è di 1 su 10 alla 40 millesima. Ma lasciate che vi mostri che è molto più impossibile di questa percentuale. Tutti i valori che superano 10 alla 50 hanno zero probabilità di verificarsi ma per sintetizzare una proteina semplice tramite un rimescolamento casuale non direzionato dobbiamo fare il seguente calcolo. partendo dal presupposto che l'universo ha un'età di 20 miliardi avremo 1 tutti questi zero diviso per il numero di secondi che ci sono in 20 miliardi di anni. Il risultato è 1,5854 e tutti questi numeri per 10 alla 243 ma rimanete con me di cambiamenti casuali ogni secondo. 1,5854 per 10 alla 243 di cambiamenti casuali ogni secondo ogni secondo un cambiamento casuale per ottenere l'ordine corretto in meno di 20 miliardi di anni per produrre una singola proteina ma aspettate un attimo quella proteina non è in grado di sopravvivere da sola. Nel giro di pochi e brevi minuti si biodegraderà a meno che non abbia un ospite. Questo vuol dire che scritto per esteso è 15,854 tutti questi rimescolamenti al secondo per 20 miliardi di anni e poi in aggiunta a questo dobbiamo sintetizzare 60.000 di queste proteine per ogni singola cellula. Vediamo di mettere le cose in chiaro questa pietra non è il tuo antenato. Dio è il tuo creatore e Gesù Cristo è l'unica speranza che hai. Egli è venuto a incontrarci nella storia umana. È andato al Calvario è morto per i nostri peccati è stato sepolto è risorto e in questo preciso istante sta bussando alla porta del tuo cuore. Vorresti in questo preciso istante ripetere una semplice preghiera? Vorresti pregare semplicemente caro Dio io sono un peccatore ho bisogno di Gesù. Signore Gesù in questo momento io ti apro il mio cuore ora e ti chiedo di salvarmi copri tutti i miei peccati con il tuo sangue e io ti seguirò con tutto il mio cuore. Se tu hai fatto questa semplice preghiera Gesù Cristo è il tuo salvatore e Dio è il tuo padre celeste. Dio è il vero creatore per mezzo di suo figlio Gesù tutti questi meravigliosi sistemi cosmologici l'intero universo i sistemi biologici che noi conosciamo e abbracciamo i sistemi atmosferici che ci sostengono Dio è ora il tuo padre celeste per mezzo della redenzione in Cristo Gesù se tu hai ricevuto Gesù come il tuo personale salvatore questa non è tuo padre tuo nonno Dio è il tuo Signore servilo e amalo con tutto il tuo cuore Grazie a tutti